a fano ventenne accoltella il patrigno arrestato per tentato omicidio mira il fiore per tutti via le barriere architettoniche dall'anfiteatro aspettando l'asta villa marina copre il degrado coi loghi di capitale della cultura elezioni si presentano europa verde a pesaro e progressisti a fano il conservatorio dirige la città orchestra di pesaro capitale della cultura buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di rossini tv ben ritrovati a rossini news il nostro telegiornale delle canale 80 che in questa edizione di giovedì 15 di febbraio apriamo con la cronaca che arriva da fano dove un ventenne incensurato è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver accoltellato il patrigno l'episodio risale a martedì sera ed è avvenuto in un'abitazione nel quartiere di sant'orso dove il ragazzo avrebbe accoltellato il compagno della madre al termine di un litigio l'uomo di 45 anni è ricoverato all'ospedale san salvatore di pesaro e non risulta in pericolo di vita il ragazzo è stato rinchiuso nel carcere di villa fastigi in attesa dell'interrogatorio degli inquirenti che sarà svolto nella giornata di domani e proprio a fan oggi ha cominciato a rivigorirsi la protesta dei trattori che dopo i cinque giorni di presidio a pesaro ha cominciato nuovamente a radunare i mezzi agricoli nei pressi del casello autostradale fanese agricoltori che tornano a manifestare contro le norme imposte dall'europa e la concorrenza sleale in tema di prezzi il clou della protesta sarà domattina con un corteo che prevede la partecipazione di circa 180 trattori che si muoveranno fra via flaminia via roma interquartieri via giovanni paolo secondo e via soncino ed ora cambiamo argomento e parliamo di buone notizie lo facciamo spostandoci a pesaro in particolare al parco miralfiore dove dopo il fortunato esperimento di lavoro inclusivo del progetto utopia il parco muove un altro passo avanti verso l'accessibilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche il tracciato non è ancora del tutto completato ma mostra già i suoi primi benefici il giovane cristiano infatti tra i primi a provare la nuova pista realizzata in settimana per compattare la strada d'accesso all'anfiteatro del parco miralfiore sicuramente permette di vedere gli spettacoli da un po' più vicino il passaggio è molto più comodo perché prima eravamo costretti ad andare in cima alle scalinate il terreno è molto più scollesso perché ci sono le mattonelle e così sicuramente i benefici sono tanti un intervento sollecitato da Marco Perugini e Marusca Palazzi che stanno mettendo a terra il piano cittadino di eliminazione delle barriere architettoniche rispondendo ad una delle tante istanze presentate dai pesaresi portatori di disabilità questo è uno spazio adibito d'estate con grande successo agli spettacoli e alla cultura era uno spazio che difficilmente era raggiungibile da chi aveva problemi di ambulazione chi era a carrozzino, chi aveva problemi di ambulazione in particolare l'abbiamo reso accessibile grazie all'intervento pronto del centro operativo comunale e dell'assessore Belloni con cui mi sono confrontato in queste settimane, in questi mesi per trovare la soluzione più idonea una soluzione che come vedete ha riguardato una stradina, un percorso che consente alle persone di raggiungere la platea e l'anfiteatro in maniera del tutto accessibile e inclusiva ma soprattutto nel rispetto del luogo in cui ci troviamo il parco Miralfiore si tratta di terra e sabbia stabilizzata che consente alle persone di raggiungere senza problemi il luogo di spettacolo Fra chi più di altri ha sollecitato l'intervento la giovane Giorgia Righi che ha vinto un'altra battaglia dopo le tante che l'hanno portata ad essere soggetto ispiratore del film Ancora volano le farfalle I lavori sono stati eseguiti e ora una pavimentazione liscia consente un accesso comodo e proibile a tutti Sì, devo dire abbiamo realizzato questo passaggio per disabili che abbiamo terminato qualche giorno fa e si dovrà in qualche modo stabilizzare adesso e sarà fruibile diciamo fra pochi giorni sarà utilizzabile in maniera vera da chi ha la necessità e bisogno di utilizzare un ausilio per recarsi dove magari vuol vedere uno spettacolo ascoltare una conferenza e stare insieme agli amici l'abbiamo realizzata con l'intervento del centro operativo comunale quindi fatto in casa come le cose buone e nonostante le polemiche che continuano forse perché ce l'hanno con me ma vabbè questo ormai siamo abituati io ricordo anche qualche anno fa quando abbiamo realizzato l'area giochi totalmente inclusiva qualcuno aveva scritto che i bambini disabili si divertivano a rotolarsi sul prato vorrei vedere bambini disabili a rotolarsi con la carazzina sul prato però a parte questo noi continuiamo il nostro lavoro per valorizzare il parco Miralfiori 23 ettari nel cuore della città un parco che è diventato il parco di tutti prima era forse un parco per pochi non devo soltanto occuparmi di rendere accessibile i luoghi dell'amministrazione o gli ospedali che certamente devono essere raggiunti da tutte le persone con disabilità ma i luoghi della cultura con la stessa forza e se penso anche alla città della cultura il prossimo grande evento della nostra città sarà proprio qui a fine marzo il 23 se non erro io voglio una grande partecipazione sociale voglio che le persone non solo assistano stiano presenti a uno spettacolo ma che vivano questa esperienza nella stesso luogo di tutti gli altri qui si poteva accedere lo stesso le persone con disabilità potevano rimanere in alto ma l'idea che possano scendere anche nel parterre che siano a contatto con gli attori o lo spettacolo realmente mi rende molto orgogliosa di questi lavori che l'amministrazione ha fatto sono molto contenta anche era una richiesta da parte di molti cittadini operazione decoro in corso alle ex colonie di Villa Marina di Viale Trieste aspettando un futuro per la struttura che è versa ormai in un abbandono decennale niente più stracci al vento il monumentale stato d'abbandono di Villa Marina su Viale Trieste in questi giorni viene coperto dai maxiteli di Pesaro Capitale della Cultura 2024 un'operazione di copertura di ponteggi già sperimentata in Piazza del Popolo sul cantiere del palazzo dell'ex intendenza di finanza così come alla stazione ferroviaria ma se in questi due casi sotto i teli fermono lavori in corso di riqualificazione dei due immobili per il vecchio istituto post-telegrafonici del lungomare il discorso è ben diverso la struttura versa in un abbandono decennale ma nell'anno di Grazia 2024 si tenta di dare una parvenza di decoro all'altrimenti poco gratificante cartolina su Viale Trieste i pannelli stanno coprendo le facciate sul Viale ma lasceranno scoperte quelle sulla spiaggia sulla facciata al lato sud del Viale si farà ancora di più installando successivamente un pannello artistico che ripercorrerà la storia dell'ex colonia estiva del ventennio fascista alla forma però si vuole aggiungere sostanza con l'Inps proprietaria della struttura che si sta organizzando per una nuova gara che proceda alla messa in vendita all'asta dell'immobile entro l'estate l'idea già esternata dall'Inps da un anno a questa parte è quella di realizzare una destinazione residenziale per anziani con una macchina sinergica fra istituto, amministrazione comunale e imprenditoria già attivatasi in questa direzione e da Villa Marina passiamo ad un'altra struttura della città che non riesce ancora a scrollarsi dal suo perdurante stato di abbandono parliamo dell'ex complesso psichiatrico del San Benedetto che ieri ha visto la prima seduta pubblica prevista per l'assegnazione dell'appalto integrato per il restauro e risanamento conservativo con miglioramento strutturale e adeguamento impiantistico finalizzato alla riqualificazione di parte del complesso al momento sono pervenute sette offerte presentate da aziende e raggruppamenti temporanei di impresa per l'aggiudicazione dell'appalto del comune lutto nel mondo del calcio locale morto a 75 anni Salvatore Sorrentino ex presidente del Real Montecchio tuttora dirigente del Key Sport Montecchio con un passato anche nella Vispesero di Bruscoli Sorrentino è morto in seguito a complicazioni cardiache ed ora apriamo un'ampia pagina di politica cominciamo dalle elezioni amministrative in vista a Pesaro con Europa Verde che si mobilita in vista della chiamata alle urne dell'8 e 9 giugno Europa Verde Pesaro si è presentata ai cittadini in vista delle elezioni amministrative di giugno 2024 un programma che mira l'ambiente con grande attenzione alla sfida per l'economia circolare e che ha dato il via ai tavoli tematici aperti a tutti i cittadini che ne vorranno prendere parte presente per l'occasione anche Sinistra Italiana con cui condivideranno il percorso politico alle comunali sulla scia di quanto iniziato alle scorse politiche noi ci siamo organizzati con dei tavoli tematici abbiamo visto che ci sono tanti giovani tanti cittadini che hanno idee per la città di Pesaro e hanno voglia di dare il proprio contributo questi tavoli tematici su tanti argomenti porteranno avanti proposte idee sia per la campagna elettorale chiaramente sia soprattutto per guidare la prossima amministrazione faccio degli esempi energie rinnovabili cavallo di battaglia storica degli ambientalisti noi vogliamo riconvertire ecologicamente ma anche economicamente le produzioni ad esempio la valle del Foglia ha tantissimi capannoni su questi capannoni c'è tanto amianto l'amianto noi sappiamo che è tossico è velenoso da origine a fibre da sbesto che vengono respirate possono dare gravi problemi alla salute della gente noi vogliamo togliere questo amianto metterci tetti fotovoltaici e l'energia prodotta viene consumata sul posto dalle produzioni locali questo è il primo passo per una riconversione ecologica dell'economia noi vogliamo mettere nella prossima amministrazione un ufficio che darà consigli ai piccoli imprenditori che vogliono riconvertire in questo senso le proprie attività e anche dare un aiuto anche dal punto di vista economico i tavoli tematici sono tavoli che sono aperti innanzitutto agli amici di Sinistra Italiana ma anche a tutti i cittadini non necessariamente iscritti che vogliono comunicare le proprie idee sono tavoli che sono partiti altri stanno partendo alcuni di questi stanno già iniziando delle iniziative pubbliche degli incontri pubblici per farsi notare ad esempio giovedì prossimo avremo un incontro sul benessere animale in cui verranno dati consigli verranno fatte proposte e verranno anche visionate le criticità di un fenomeno che ormai fa parte di tante famiglie pesaresi cioè la presenza di un piccolo piccolo animale da compagnia e tutte le problematiche connesse altri tavoli tecnici come quello per la riconversione ecologica del lavoro vedrà un incontro pubblico con esperti e soggetti interessati il 2 marzo sempre alle 10 di mattina alla Sala Rossa del Consiglio Comunale A livello locale noi stiamo seguendo con molta attenzione il percorso di Europa Verde e il dibattito che stanno sviluppando e siamo in contatto e stiamo lavorando assieme su alcuni temi pur con percorsi diversi anche nel recente passato perché Europa Verde all'interno della maggioranza mentre sinistra italiana no stiamo cercando di fare un percorso comune che su molti temi si vede già in accordo Da Pesaro passiamo a Fano dove invece oggi è stato presentato ufficialmente un nuovo candidato a sindaco per la terza città delle Marche vediamo di chi si tratta Dieci anni dopo Stefano Marchegiani torna a candidarsi a sindaco di Fano in vista delle elezioni amministrative dei prossimi 8 e 9 giugno il responsabile fanese di azione lo fa candidandosi per progressisti per Fano 2050 coalizione in cui convergerà il programma elettorale di Movimento 5 Stelle Verdi PSI la stessa azione e le liste civiche bene comune Fano dei quartieri Fano Ribella Evolt in una proposta elettorale presentata oggi al Pino Bar sicuramente l'apporto che noi diamo oggi come azione come progressisti è la proposta di alzare un po' l'asticella in una storia nuova necessariamente perché dopo dieci anni bisogna rinverdire i programmi e adeguarli a mozzarli alle esigenze nuove siamo qui in mezzo alla gente per approfondire quelli che sono per noi i pilastri del programma di una città che tende a diminuire di abitanti che tende a essere meno appetibile su alcune cose su altre no e però noi riteniamo che le sfide importanti che sono state un po' rimandate o tenute in sospeso a galleggiare vadano affrontate non c'è più tempo per tergiversare la politica deve farsi responsabile parte dirigente di affrontare con i territori quelle sfide dei servizi alla persona dei servizi di igiene urbana dei contratti acqua gas ma soprattutto di un ruolo della città nel contesto territoriale delle marche del centro Italia perché fanno una città che può esprimere tanto e sono cose che bisogna fare non per arroganza ma per il marketing urbano per garantire posti di lavoro per garantire turismo di qualità e per garantire un rispetto del paesaggio dell'ambiente che è un altro dei temi che ci sta a cuore fra i temi della proposta elettorale punto focale quello della sussidiarietà fanno una città molto dignitosa che non fa capire in quelle parti più deboli la sofferenza di chi ha un anziano in casa e non ha la possibilità di sostenerlo adeguatamente 14 milioni di euro spesi ogni anno dalle famiglie di Fano per le badanti che sono un tema anche quello da affrontare per dare dignità a queste lavoratrici il ruolo della sanità per Fano quale sanità per Fano nel contesto che la regione sta tracciando con decisione è solo un contesto di edifici nuovi ma quali sono i contenuti noi vorremmo cominciare a affrontare questi aspetti il tema anche dell'agricoltura vediamo ogni giorno cosa sta capitando nel contesto internazionale ma Fano ha un grande territorio agricolo anche risorsa per nuova occupazione per giovani ma come cadono le leggi europee nel contesto dei nostri agricoltori quindi ci interessano questi aspetti nuovi per tracciare quelle grandi possibilità che Fano ha il rapporto con l'innovazione tecnologica con l'università con la sperimentazione e la creatività progressisti per Fano 2050 arrivano alla chiamata elettorale dopo settimane di tentativi di campo largo con il centro-sinistra riconducibile alla giunta seri sfociati in fumate nere davanti alla prospettiva di primare dei quattro assessori uscenti c'è poi il caso contraddittorio di un seri confluito in azione e di un marchegiani che d'azione prende una direzione politico-elettorale diversa dal primo cittadino in carica progressisti che però per marchegiani restano un gruppo ancora a porte aperte io credo che il progetto democratico attraversi una discussione complessa che rispettiamo credo che non tutto il partito democratico sia convinto di queste scelte di farsi subordinare da posizioni molto dure delle liste civiche le liste civiche poi nascono durante le elezioni poi esprimono le loro figure che rimangono lì però non sono dei partiti noi speravamo che il partito democratico come partito di maggioranza della maggioranza avesse il compito di traino di regia in uno sforzo maggiore di unione di un campo giusto campo largo che poteva rendere meglio contendibile la città al centro-destra sappiamo bene che la strada è molto complicata ardua ma siamo anche convinti che raccontando le cose alla gente la rappresentanza in consiglio comunale possa essere interessante poi se arriviamo un pochino più lontano bene accettiamo responsabilità lasciamo la politica e parliamo di musica perché nel prossimo servizio andiamo al conservatorio di Pesaro che si prepara ad un anno da attore protagonista delle iniziative della capitale della cultura i giovani talenti l'eccellenza dei suoi docenti e la felice sinergia delle collaborazioni con le principali istituzioni musicali del territorio eleveranno ad un ruolo da protagonista il conservatorio Rossini nel 2024 anno di Pesaro capitale della cultura da Palazzo Livieri i depositari del dono rossiniano saranno infatti chiamati a dirigere quella città-orchestra metafora del lavoro di squadra che ha reso Pesaro capitale città-orchestra che il conservatorio coordinerà per quel che riguarda la musica esaltandole elemento identitario rossiniano fra rassegne incontri concorsi e soprattutto grandi eventi in cui convergeranno collaborazioni prestigiose ovviamente noi occupandoci di musica e siccome lo slogan è città-orchestra siamo stati i primi a dover cucire questa orchestra e l'abbiamo cucita con molta umiltà e con tanta voglia di donare alla città ai nostri studenti ai nostri docenti il bello quello che di bello possiamo offrire aprire le nostre porte le nostre collaborazioni con tutte le istituzioni che si occupano di musica nella nostra città che sono veramente tante basti solo pensare a parte vabbè quelle oramai consolidate come la signora per la festa la fondazione Rossini per la ricerca ma anche la sinfonica l'orchestra che è diventata ICO la forma con la quale abbiamo ricostituito per un altro triennio la collaborazione per la classe di direzione d'orchestra il progetto Raffaello che mette insieme Rossini per Raffaello la città di Pesaro e Urbino attraverso due cose molto belle la cantata di Laura Rossi è una composizione scritta originale dal nostro vice direttore Mangel Fiorenti collaborazioni per grandi appuntamenti che spazieranno dall'orchestra di violoncelli al fianco di Giovanni Sollima al progetto dedicato a Raffaello dalla festa della musica con Pesaro Film Festival all'International Music Project Program si comincia però il 29 febbraio con il concerto di compleanno di Giochino Rossini e il conservatorio che si rappropria del suo teatro per la messa di Gloria sarà realizzata appunto con la nostra orchestra diretta da Luca Ferrara maestro del coro Lorenzetti dal nostro coro di 80 persone e dai solisti di Rossini Opera Festival e sarà anche l'occasione per l'inaugurazione dell'anno accademico anno accademico particolare non solo per il 2024 di Capitale della Cultura ma perché sta prendendo vigore la tanta auspicata ristrutturazione di Palazzo Olivieri credo che sia la prima volta dopo tantissimi anni che il conservatorio è riuscito ad avere un finanziamento importante si parla di oltre 5 milioni e mezzo questo consente di poter fare delle opere innanzitutto di messa in sicurezza del palazzo perché si inizierà dal tetto ma credo che si apporteranno anche delle modifiche funzionali che miglioreranno di molto la capacità del conservatorio di poter ospitare ragazzi di tutto il mondo e derogare delle prestazioni di formazione che sono estremamente importanti perché stiamo parlando di uno dei conservatori più prestigiosi salmondini assoluti e concludiamo il nostro telegiornale con lo sport è finito 2 a 2 ieri sera il derby vi speso Rancona in un turno infrasettimanale in perenne altalena con Rancona a chiudere il primo tempo in vantaggio con la rete di Paolucci la vista a ribaltare il risultato con le reti di Pucciarelli e Zagnoni nel primo quarto d'ora di ripresa prima del definitivo 2 a 2 di Giampaolo le due corregionali restano appaiate a quota 29 punti entrambe un punto fuori dal quintetto play out vuole invece difendere il piazzamento play off Little Service Pesaro nella massima serie di calcio 5 dopo la sconfitta di Pomezza la squadra biancorossa è chiamata a reagire domani sera alle 20 e 30 al pala megabox di Pesaro contro la Meta Catania quarta forza del torneo si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale Rossini News prima di salutarci vi ricordiamo la nostra prima serata che in questo giovedì è dedicata alle belle immagini del carnevale di Pesaro il 67esimo carnevale dei ragazzi che vi abbiamo anticipato lunedì nel nostro TG ma vedrete questa sera l'approfondimento completo alle 21 e 20 e poi vi aspetto domattina per la rassegna stampa buongiorno Rossini come sempre in diretta a partire dalle 7 e 20 si conclude invece qui Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro buona serata in compagnia dei programmi di Rossini TV e vi ringrazio